Non perdere le mutande, il mio nuovo libro è finalmente disponibile e ci sono le copie pronte a partire. Quindi da questa pagina puoi acquistare la tua copia, puoi farlo subito, puoi guardare 5 minuti questo video dove ti racconto qualcosa del libro e ti racconto anche le 3 opzioni che ho deciso di riservarti per questo primo periodo in cui sto presentando il mio libro per la prima volta. Quindi non perdere le mutande, tutto ciò che devi sapere prima di spendere un solo euro nei tornei di poker e il corso che ho fatto e che ho trasformato in un libro perché essenzialmente volevo avere un libro cartaceo da vendere. Volevo avere un libro cartaceo da vendere perché è uno strumento che in realtà è molto accessibile, non costa quanto un corso quindi sono felice di rinunciare a vendere queste informazioni a qualche centinaio di euro che sarebbe il prezzo a cui l'avrei venduto sotto forma di corso, però l'ho messa in questo libro che può essere un primo approccio per te per studiare i miei materiali, per conoscere il mio approccio per avere sin da subito strumenti per affrontare i tornei multitavolo. È un libro che nasce dall'esperienza mia come giocatore e come coach, quindi è un concentrato di informazioni utilizzabili che puoi avere a tua disposizione per i tornei italiani, per i tornei multitavoli in genere, però l'esperienza è stata presa dal gioco che ho applicato io per primo, che ho codificato negli anni che ho insegnato a centinaia di studenti e per la prima volta formato cartaceo, 250 pagine, mi sembra che sono 18 capitoli non perdere le mutande. Lui è Cena, Cena è il protagonista del libro, però è un po' quello che ha ispirato la copertina e poi il concetto che questo libro racchiude, scoprirai la sua storia nell'introduzione, magari te la racconterò così in anteprima in un altro video, in questo momento voglio semplicemente dirti che c'è la possibilità di prendere la tua copia, costa 19 euro e in questo periodo iniziale costa 19 euro con le spedizioni incluse. Qui sotto c'è un contatore che ti dice quando questa offerta delle spedizioni incluse terminerà, quindi hai tempo, finché questa pagina è attiva, di prendere questo libro al prezzo di copertina con le spedizioni incluse e di accedere a una delle tre offerte che ho preparato per presentare Non perdere le mutande. Il lavoro di Non perdere le mutande ha una filosofia dietro, ha un'idea, che è quella appunto di fornirti una sorta di patente guida per tornei multitavolo, quindi di darti gli strumenti, i primi strumenti per affrontare bene i tornei di poker. Per farlo c'è un primo livello di lavoro, che è quello del suo libro. Il libro già di per sé è equipaggiato per darti dei miglioramenti, un corso che ti dà tutto ciò che serve per affrontare bene un torneo, cioè ho l'idea di base, ho guardato quelli che sono i tornei che le persone giocano e quelli che sono gli errori più importanti che fanno, ho detto cosa dovrei dare a queste persone per metterli in grado di affrontare quantomeno con la giusta consapevolezza e quindi attrezzarli ai pericoli, alle difficoltà che affrontano lungo il torneo. Il secondo livello di lavoro costa un po' di più, costa 47€ e racchiude il libro, il cartaceo che ti viene spedito a casa tua più due videoanalisi che sono appunto non perdere le mutande il videocorso perché, qual è l'idea? L'idea è di darti la parte teorica che trovi in queste pagine e poi farti vedere in due tornei che ho analizzato come tradurre questa teoria in pratica. Sono due videoanalisi parecchio interessanti dove c'è un gioco che è da un lato molto comune che ho visto rivedere molte volte, troppe volte, soprattutto quando mi capita di... infatti queste due videoanalisi hanno in comune una cosa non sono realizzate da tornei giocati da miei studenti sono realizzate da tornei che i miei studenti hanno giocato prima di comprare il mio corso o uno dei miei percorsi avanzati cioè mi hanno dato prima il torneo e quello che è emerso sono queste due videoanalisi quindi con tutta una serie di errori e problemi che sono veramente pesanti nei tornei che hanno giocato e che rappresentano un po' la situazione che potresti vivere tu in questo momento cioè una persona che ancora non ha studiato i miei percorsi avanzati e che costantemente fa determinati errori che distruggono i tornei e le chance di arrivare in fondo quindi non perdere le mutande il videocorso ricevi con il libro queste due videoanalisi tratte da tornei che sono stati giocati da giocatori come te che non hanno ancora studiato i miei percorsi avanzati quindi non conoscono ciò che insegno e giocano i tornei e faccio proprio vedere sono letteralmente 6 ore di contenuti quindi 47 euro libro più 6 ore di contenuti c'è tanta tanta roba molto molto importante tra l'altro ho scelto due tornei che sono anche molto comuni come struttura tornei che sicuramente giochi o se non giochi quelli giochi qualcosa di molto simile quindi veramente ho voluto darti qualcosa di utile e pratico terzo livello è non perdere le mutande percorso personalizzato cosa facciamo che oltre al libro oltre alle due videoanalisi ricevi anche una tua videoanalisi personalizzata cioè mi mandi tu un tuo torneo che hai giocato e io realizzo una videoanalisi di quello che tu hai fatto ora i posti limitati per queste videoanalisi sono quelli che vedi segnali qui sotto sono limitati raggiunto quel numero chiudo perché si tratta veramente di un lavoro molto dispendioso e soprattutto si tratta di un lavoro che normalmente costerebbe 197 euro a torneo per questa occasione riceverai il libro i due tornei le due videoanalisi dei tornei e la tua videoanalisi personalizzata quindi tre videoanalisi in tutto due che ho già pronte e una che realizzerò su misura per te per vedere cosa sbaglia e per aiutarti a utilizzare questo libro nel miglior modo possibile e ti costa 97 euro invece che 197 euro quindi è un lavoro prezioso è il lavoro migliore in assoluto che posso farti a questo livello per darti subito il miglior incipit il miglior modo di partire a lavorare con me il prezzo è un'offerta che è particolare riguarda questo lancio del libro quindi sia la videoanalisi che il lib tutto un lavoro molto particolare che possiamo fare è completo in piccolo riflette quello che è il lavoro che facciamo in varianza 0 perché hai un corso che racchiude la parte teorica una parte in pratica poi con le videoanalisi se le prendi è una parte personalizzata dove traduciamo tutto per te cioè declinato esattamente per quelli che sono i problemi del tuo gioco quindi questo è non perdere le mutande qui sotto trovi tre bottoni per procedere all'acquisto 19 euro solo il libro spedizioni gratuite fino a quando non scade il timer poi saranno a pagamento vedremo quanto video corso 47 euro quindi le due videoanalisi e il libro terzo livello percorso personalizzato 97 euro invece che 197 avrai anche il libro e le due videoanalisi del video corso non perdere le mutande quindi questa è l'offerta che ti faccio hai tempo finché non scade il timer prendi la tua copia del libro 19 euro 20 euro per un libro che contiene da solo per gli estratti dai corsi avanzati che ho inserito qua dentro ne vale la pena prendilo studialo e non fare la fine di cena ciao da Mario